Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi parliamo di Olli. Il concentrato di Olli è indicato per le persone di pessimo umore, duri di cuore e addirittura crudeli, che talvolta possono diventare irrascibili. La sofferenza di queste persone spesso non ha un vero motivo e risulta arduo a queste persone aprire il proprio cuore all'amore. Il loro stato animico spirituale negativo è una miscela di odio, invidia e gelosia. Probabilmente la sofferenza nasce da un'insicurezza interiore e spinge a supporre che dietro molte cose ci sia il male e quindi a reagire in maniera aggressiva. L'impossibilità ad aprirsi all'amore può essere accompagnata da una sensazione generale di rabbia nei confronti del prossimo. Il ricorso a Olli si presta in particolar modo per i bambini gelosi del proprio fratello o sorella. La possibilità di evoluzione favorita da Olli è quella di avere la capacità di dare senza avere nulla in cambio. A questo punto quelle persone sono più disposte a dividere ciò che hanno con il prossimo e diventano persone assolutamente non possessive anche se anche loro hanno dei problemi da affrontare. Grazie alla sensazione di armonia interiore il successo degli altri viene vissuto con sincera felicità. Ciao al prossimo fiore!